La polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto Vincenzo Sorge di 37 anni di Lentini per detenzione ai fini di spaccio di 42 kg di marijuana. L'uomo aveva tentato la fuga, ma è stato intercettato e arrestato poco dopo. Ieri a Scicli, Consiglio Comune era aperto sull'ordinanza che istituisce la zona traffico limitato in Via Leardi, forse alla partecipazione di residenti e commercianti con punti di vista divergenti. I consiglieri comunali di Scicli, Giannone e Marino, sono passati a Forza Italia, mentre Marianna Buscema lascia l'Udc e si chiara indipendente. Le scelte sono state ufficializzate ieri in Consiglio Comunale. Da due anni gli operatori ecologici di Vittoria non percepiscono puntualmente lo stipendio e nessuno riesce a capirne il motivo. La denuncia parte dalla FIADEL che chiede l'intervento del prefetto. Importante riconoscimento per la schermamodica è il suo stasso tecnico. Il maestro Leandro Giordanella è stato incaricato dalla Federazione Internazionale di Scherma come docente per un corso di formazione in Uganda. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo il telegiornale parlando di cronaca. La Polizia di Stato ha tratto in arresto Vincenzo Sorge di 37 anni di Lentini per detenzione ai fini di spaccio di 42 kg di marijuana. L'uomo aveva tentato la fuga, ma è stato intercettato e arrestato poco dopo. Vediamo. La Polizia di Stato, squadra mobile Polizia Stradale, ha tratto in arresto Vincenzo Sorge di 37 anni di Lentini per detenzione ai fini di spaccio di 42 kg di marijuana, reato aggravato per l'ingente quantità trasportata. Domenica mattina, intorno alle 10, una pattuglia della Polizia Stradale di Vittoria durante il normale servizio di controllo del territorio ha intimato l'alto a un veicolo in transito sulla strada statale 514 all'altezza di Contrada di Chiara in territorio di Chiaramonte Gulfi. Il conducente da prima ha rallentato, ma subito dopo si è dato la fuga in direzione di Catania. Gli agenti si sono messi subito all'inseguimento chiedendo ausilio alle volanti di Ragusa, Comiso, Vittoria e la squadra mobile. Dopo qualche chilometro di fuga e folle velocità il conducente ha abbattuto la recinzione di un terreno agricolo per dileguarsi tra le campagne. Gli agenti, nonostante lo avessero quasi raggiunto, non hanno potuto bloccarlo perché lo stesso aveva creato una situazione di pericolo per gli automobilisti in transito. Messo in sicurezza il veicolo, tutti i poliziotti in servizio hanno dato inizio a una battuta di caccia per le campagne di Chiara Montegulfi. Gli uomini della squadra mobile di Ragusa nel contempo hanno dato avvio ad accurate indagini per risalire all'identità del conducente. All'interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto alcuni dati che hanno portato a risalire al proprietario dell'auto. Grazie alla collaborazione degli uomini del commissariato di Lentini è stata individuata l'abitazione del proprietario dell'auto e quella del probabile conducente. Dopo lunghe ore di appostamento sotto casa sorge è stato notato a bordo dell'auto del padre mentre faceva rientro presso l'abitazione di famiglia. Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti si è dato nuovamente alla fuga ma di lì a poco è stato definitivamente catturato e condotto negli uffici della polizia di stato di Lentini. Due poliziotti lo hanno riconosciuto senza alcuna ombra di dubbio. La polizia scientifica ha effettuato gli accertamenti sull'identità del sorge e la pesatura della droga. All'interno del bagaglio sono stati trovati 34 involucri di varie dimensioni per un peso complessivo di circa 42 kg. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Un banale incidente stradale tra due auto a Ragusa con levissimi danni e senza feriti è stata l'occasione per una violenta aggressione ai danni di una donna e di un giovane ragazzo che hanno riportato lesioni personali per 6 e 5 giorni di prognosi. I particolari nel servizio. Un banale incidente stradale tra due auto con levissimi danni e senza feriti è stata l'occasione per una violenta aggressione ai danni di una donna e di un giovane ragazzo che hanno riportato lesioni personali per 6 e 5 giorni di prognosi. I fatti sono successi nella zona alta di Ragusa quando due auto durante la marcia si sono appena toccate con lievi danni riportati e rispettivi specchietti retrovisori esterni. I due alla guida, una sessantenne e un trentenne, tutti e due ragusani, si sono fermati per constatare il danno e scambiarsi le generalità. L'uomo però ha subito alzato i toni aggredendo verbalmente il più giovane con insulti e accuse di aver provocato il sinistro. Nel contempo sul posto è sopraggiunto una donna a 45enne, parente del giovane, che vedendo la situazione si è fermata per capire cosa fosse successo. L'uomo, infastidito della presenza della donna, senza alcun motivo l'ha aggredita, sferrandolo un violento schiaffo al viso che ne provocava anche la rottura degli occhiali da vista. A difesa della donna è intervenuto il più giovane, che a sua volta è stato colpito dall'uomo, che subito dopo, a bordo della sua auto, si è allontanato. I due si sono portati al pronto soccorso per essere medicati, riportando la donna a una trauma facciale e il giovane lesione agli arti superiori. Proprio mentre erano in attesa della visita dei sanitari all'interno della sala si è portato il figlio dell'aggressore, poco più che ventenne, che ha iniziato a minacciare pesantemente il giovane per poi allontanarsi. I fatti sono stati prontamente denunciati presso gli uffici della questura di Ragusa, dando modo agli uomini della sezione volanti di acquisire gli elementi necessari all'identificazione degli aggressori. Il giovane, infatti, era riuscito a prendere il numero di targa dell'auto che era rimasta coinvolta nell'incidente. Da questo primo elemento i poliziotti dell'ufficio denuncia sono riusciti ad individuare i due aggressori, padre e figlio, che sono stati riconosciuti senza ombra di dubbio dalle due parti offese. Pertanto, all'esito di quanto emerso a carico degli stessi, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato. Adesso ci spostiamo a Scicli, dove ieri sera si è svolto il Consiglio Comunale Aperto sulla ZTL di Via Aleardi. Diversi gli interventi dei residenti e dei commercianti, ovviamente con opinioni contrastanti sull'ordinanza dell'amministrazione comunale. Vediamo. È stata tanta la partecipazione al Consiglio Comunale Aperto di ieri sera a Scicli per discutere della zona traffico limitato di Via Aleardi. La seduta aperta, richiesta dai consiglieri di opposizione, è stata fortemente voluta dai residenti. Dopo gli interventi dei consiglieri con quelli di minoranza, che hanno ribadito di non essere contrari alla ZTL, ma che sarebbe stata comunque spiegabile una concertazione con politici e residenti, la parola è passata ai cittadini. Principalmente il botta e risposta è stato tra chi risiede in Via Aleardi e i commercianti. Da quando è stata chiusa il traffico nella via, si sono persi all'incirca 50 posti auto, ma chi è favorevole alla chiusura perenne ha sottolineato che, considerando il fatto che a margine dei torrenti non si può parcheggiare, i posti reali che si sono persi sono all'incirca una ventina. Quello che i residenti hanno chiesto è una soluzione intermedia, quindi non un no secco alla ZTL, ma un sì con delle condizioni. L'amministrazione ha di individuare dei posti e dei parcheggi che non devono essere solo a servizio dei residenti, ma io parlo di tutta la cittadinanza, ma comunque a partire anche da noi. Noi abbiamo delle idee, molto egoisticamente pensiamo di avere a disposizione un 30 posti di macchina sul torrente che hanno coperto dopo Strada Nuova, non so come si chiama, via? La continuazione di via Learde, diciamo. Ecco, in quella zona là si potrebbe avere un parcheggio che per noi è molto utile, perché non è molto distante dalle nostre case e non ruberemo nulla alla cittadinanza e nemmeno ai turisti che verranno. La bellezza della ZTL si scontra con la bruttezza che c'è in altri quartieri di Scicli e dove nulla possono né i vigili urbani né questa amministrazione per quello che possiamo vedere. Io prendo per esempio la zona di San Giuseppe dove ci sono macchine parcheggiate sempre sui marciapiedi, dove c'è una giungla di macchine messe in qualsiasi modo e non si può né percorrere a piedi quella strada agevolmente, né tanto meno con le macchine. Molto più drastica la posizione del coordinatore di Cambiare Scicli, Giuseppe Emplatini, che ha chiesto la revoca dell'ordinanza perché è ritenuta illegittima. Ma principalmente perché nel programma elettorale del sindaco Giannone non era prevista l'istituzione delle ZTL per cui in assenza di previsione nel programma non c'è legittimità democratica a distituire la ZTL perché i cittadini non hanno espresso il proprio consenso e questo rappresenta un grave bonus al principio di democrazia in quanto la sovranità appartiene al popolo. Diversa, come detto, la posizione dei commercianti, i quali hanno evidenziato come, da quando è stata chiusa il traffico, la via si è diventata uno splendore ed oggi rappresenta uno dei luoghi più affascinanti di Scicli. Che è una zona meravigliosa che va valorizzata. L'idea di vederla senza automobili all'inizio ci faceva venire la pelle d'oca perché era stupendo guardare San Matteo, il torrente e tutto quanto. Sicuramente ci sono dei problemi e sicuramente l'amministrazione dovrà far fronte a questi problemi, dovrà regolamentare. Però ad oggi io credo che sia una cosa positiva e lo vediamo anche dai lavori che stanno iniziando a fare nel giardinetto adiacente. Qualcosa si muove, diamo del tempo all'amministrazione di poter portare avanti, altrimenti saremo noi i primi a lamentarci con la stessa perché le cose non vanno come deve. Per l'amministrazione erano presenti gli assessori Carpino e Riccotti che si dimostra possibilista verso un dialogo con i residenti, fermo restando che la scelta di chiudere il traffico di via Leardi è politica ed è determinata dal voler valorizzare la via oggi a trazione per migliaia di turisti. I consiglieri comunali di Scicli, Giannone e Marino sono passati a Forza Italia, mentre Marianna Buscema lascia l'Udc e si dichiara indipendente. Le scelte sono state ufficializzate ieri in Consiglio Comunale. I consiglieri comunali di Scicli, Mario Marino ed Enzo Giannone sono passati ufficialmente a Forza Italia, mentre la consigliera Marianna Buscema si è dichiarata indipendente. Le dichiarazioni sono arrivate ieri sera in Consiglio Comunale. I due neoforzisti hanno affermato che adesso l'intento è quello di percorrere il tracciato politico e amministrativo degli onorevoli Orazio Ragusa, in ragione della sua recente riconferma all'Assemblea regionale di Nino Minardo, in ragione della sua attuale candidatura e quasi certa riconferma al Parlamento nazionale, nella prospettiva di un maggiore ritorno in termini di attenzione verso la comunità locale e provinciale. Per Enzo Giannone, come dichiarato lui stesso, il passaggio a Forza Italia è un ritorno a casa. Io onestamente mi sento davvero orgoglioso di fare parte di Forza Italia e che al Consiglio Comunale, dopo quasi dieci anni, ritorna la sigla di Forza Italia come partito. Il nostro è un progetto molto ambizioso, abbiamo già costituito un coordinamento composto da 12 persone, la nostra idea è quella di lavorare al fianco della città e di collaborare con i nostri rappresentanti regionale e nazionale. Abbiamo tanta volontà, c'è un gruppo giovani appena costituito e un gruppo donne, Forza Italia, che sarà costituito a giorni. Con le dichiarazioni dei tre consiglieri, due dei quali lasciano definitivamente l'Udc, Giannone invece era stato eletto in una lista civica, non cambia comunque la geografia del Consiglio Comunale. I tre erano e rimangono infatti consiglieri di opposizione. Durante una conferenza stampa indetta alla Comune di Ragusa si è fatto chiarezza sulla situazione della distribuzione agli utenti dei kit per la raccolta differenziata. C'è tanto ottimismo tra gli addetti e i lavori, ma purtroppo ad oggi è stato raggiunto soltanto il 25% dei cittadini blei. Durante una conferenza stampa indetta alla Comune di Ragusa si è fatto chiarezza sulla situazione della distribuzione agli utenti dei kit per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani. Presenti il sindaco Piccitto e gli assessori Zanotte e Martoranna per il Comune e l'ingegner Barracco, con due rappresentanti dell'impresa aggiudicataria dell'Appalto, è stato evidenziato con cauto ottimismo lo sviluppo della situazione in vista dell'entrata effettiva in vigore del servizio. Il sindaco Piccitto, nell'evidenziare che per tale evento è necessaria la massima collaborazione degli organi di stampa per dare agli utenti la necessaria informazione, ha detto che alla fine di rispondere concretamente alle domande dei cittadini è necessario dare il massimo coordinamento tra gli uffici comunali e l'impresa appaltatrice. L'ingegner Barracco, dopo aver rassegnato alcuni dati sulla distribuzione dei kit, ha precisato che nella settimana pasquale la distribuzione avverrà nella contrada San Giacomo e che è stato raggiunto il 25% dell'utenza e che gran parte dei condomini, oltre 5 unità pari a 1545, sono stati raggiunti con le lettere già inviate. Nei prossimi giorni ci saranno incontri con i dirigenti scolastici per risolvere anche i problemi delle scuole nella raccolta dei rifiuti. Da due anni gli operatori ecologici di Vittoria non percepiscono puntualmente lo stipendio e nessuno riesce a spiegarne il motivo. La denuncia parte dalla Fiadel. Facciamo il punto in questo servizio. Da due anni gli operatori ecologici di Vittoria non percepiscono puntualmente lo stipendio e nessuno riesce a spiegarne il motivo. Ovvero, ognuno scarica le responsabilità agli altri. Tante le aziende che ci sono succedute in questi anni. Prima la Tecra di Salerno, poi la EF Servizi di Mister Bianco e adesso la Tec di Floridia. Nessuno ha mai pagato puntualmente i lavoratori. È utile ricordare che la ritribuzione, secondo quanto previsto dal contratto nazionale FISA a suo ambiente, deve essere corrisposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello lavorato. Le aziende giustificano i ritardi addebitando nella responsabilità alla Comune di Vittoria. Di fatti pare che il Comune non paghi mai le fatture presentate dalle aziende prima della 16-18 di ogni mese, per cui le aziende dicono non possono anticipare gli emolumenti se non hanno prima incassato le somme dall'ente. Il Comune si difende addebitando le responsabilità ai vari uffici che si occupano di pagamenti. La Fiadel si pone delle domande ben precise. Ma è possibile che nel 2018, nell'era della fatturazione elettronica, trascorrano oltre 20 giorni per saldare la fattura ad un fornitore, in questo caso l'azienda che garantisce la pulizia della città? È possibile che un'azienda che assume l'onere di fornire un servizio per 7 milioni di euro l'anno non debba garantire la puntualità delle retribuzioni dei dipendenti che, ricordiamo, mantengono pulita la città? Questo è lo sfogo del segretario provinciale della Fiadel. Oggi la Fiadel rappresenta circa il 60% del lavoratorio a Vittoria e chiede con te ragione. La Fiadel, lunedì, ha indetto uno stato di agitazione. Esigiamo di conoscere il motivo vero di questi ritardi e continueremo con lo stato di agitazione fin quando qualcuno ci garantirà la quantualità dei pagamenti. La situazione in cui versano le oltre 100 famiglie degli operatori ecologici parini è davvero allarmante e sta creando disagi economici non indifferenti. Oggi i lavoratori non hanno nemmeno la possibilità di mettere il carburante nei propri mezzi per recarsi sul posto di lavoro. Non possono pagare il mutuo o le bollette. La Fiadel ha chiesto l'aiuto anche del prefetto di Ragusa. Il prossimo martedì al Chiostro delle Grazie a Vittoria verrà presentato il progetto cinematografico Entro Mezzanotte dei registi Toni Gangitano e Peppino Orecchia. Il regista Peppino Orecchia in collaborazione con il regista Toni Gangitano e la collega giornalista co-sceneggiatrice Concita Occhi Pinti hanno indetto una conferenza stampa per presentare il progetto cinematografico Entro Mezzanotte. Saranno presenti gli attori nazionali Mario Pinato, Vinceriotta, Maurizio Marchetti, Mimmo Mignemi, Guia Ielo, Orio Scaduto, Pino Scaglione e Toni Gangitano anche nella veste di attore oltre che regista. Parteciperà anche il neoattore Emanuele Gulino che vive da anni a Roma pur essendo vittoriese. Naturalmente non mancheranno gli attori locali Marcello Orlandini, Vincenzo Aiello, Paolo Giglio, Davide Dell'Utri, Valentina Graziano, Gabriella Giandinoto, Maurizio Curiale, Andrea Galizia, Rosangela Gioe, Giorgia Fornaro, Paola Orecchia, Salvatore Nocera Bracco, Monica Milazzo, Marco Longobardo, Vincenzo Pennica, Alessandra Ricotta, Francesca Falzone, Simona Scarantino, Eva Falzone, Geni Di Giacomo, Monica Firinceli, Alessandro Napolitano, Piera Messina, Valentina Costa ed Emanuele Nastasi. Ad aprire lavori il giornalista partecipativo Orazio Rizzo. Presenti all'evento il primo cittadino Giovanni Moscato e l'assessore alla cultura Alfredo Vincinguerra e l'assessore Valeria Zorzi. Parteciperanno anche l'Avis Cittadina, la Proloco e tutte le aziende che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto. Appuntamento quindi martedì 27 alle 15 a Vittoria al Chiostro delle Grazie con la conferenza stampa per il film Entro Mezzanotte. Canale 74 sarà media partner ufficiale del progetto. Votare è un diritto di tutti e per rispettare questo diritto l'Anfas ha redatto una guida al voto scritta in linguaggio facile da leggere che spiega agli elettori con disabilità come si vota. Le elezioni politiche si avvicinano e il voto è un diritto di tutti e per tutti compresa le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Un diritto sancito dall'articolo 29 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, volto a garantire che possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica sulla base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette. Purtroppo però Roberto Speziale, presidente nazionale Anfas Onlus, rileva che in Italia manca una chiara normativa che garantisca alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo i giusti sostegni nella presa di decisioni ed assistenza in cabina elettorale per esercitare il diritto dovere di voto in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini elettori. Non solo viene di fatto inibito il diritto di voto, ma le stesse tematiche legate alla disabilità non vedono dichiarati impegni concreti da parte delle varie forze politiche impegnate nella competizione elettorale. Tali aspetti e le relative proposte sono state evidenziate oltre che da Anfas stessa, anche da FISH, ovvero la Federazione Italiana Superamento Handicap e dal Forum Nazionale del Terzo Settore a cui Anfas aderisce. Anfas ha così realizzato, con un linguaggio facile da leggere, un kit guida alle lezioni, dedicato alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, ai loro familiari e agli operatori. La guida è scritta in linguaggio facile da leggere, easy to read, che spiega quando si vota, per cosa si vota, come si vota e cosa è necessario fare una volta arrivati al seggio. L'Anfas mette a disposizione anche una guida per le famiglie e gli operatori, per dare loro alcune indicazioni su come supportare al meglio le persone con disabilità intellettive che vogliono andare a votare e chiarendo alcuni punti come ad esempio il diritto al voto anche per le persone interdette o tutta la questione relativa all'accompagnamento in cabina elettorale. Queste guide confermano l'impegno di Anfas per il rispetto dei diritti civili e politici delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, un impegno che si concretizza anche nel progetto in corso di realizzazione Capacity. La legge è uguale per tutti, volta a sperimentare modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, in linea con quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, al fine di promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva. Il kit Anfas per le persone con disabilità, le famiglie e gli operatori è disponibile sul sito Anfas ONLUS. Importante riconoscimento per la scherma modica e il suo staff tecnico, infatti il maestro Leandro Giordanella è stato incaricato dalla Federazione Internazionale di Scherma come docente per un corso di formazione in Uganda. Sentiamo. Importante riconoscimento per la scherma modica e il suo staff tecnico. Il maestro Leandro Giordanella è stato incaricato dalla Federazione Internazionale di Scherma come docente per un corso di formazione per tecnici di primo livello per la Federazione di Scherma dell'Uganda. Il corso è inquadrato in un progetto di sviluppo e solidarietà olimpica della FIE, rivolto a quelle federazioni nazionali di recente costituzione, che necessitano innanzitutto della formazione di tecnici locali per dare un impulso allo sviluppo dell'attività sportiva. Il maestro Giordanella è in qualità di rappresentante della scuola magistrale italiana, vista come eccellenza assoluta nel mondo, già nel paese africano da una settimana, svolge l'attività di formazione a sei aspiranti istruttori locali fino alla fine di febbraio. Prosegue frenetica intanto l'attività agonistica in questo mese di febbraio, con la Conad Scherma modica senza sosta, impegnata su più fronti, dagli Under-14 ai Master. Dopo il successo degli Under-14 a squadra di Fioretto nel Grand Prix Kinder Sport, è stata la volta della spada a Bolzano. La squadra dei ragazzi allievi, formata da Lorenzo Calabrese, Alessandro Granata e da Davide Desè, è stata artefice di un'ottima prestazione, perdendo solo alle soglie della finale ad otto, dove ha ceduto il passo del circolo schermistico forlivese. I precedenti successi erano venuti nel tabellone di diretta, con oltre 50 squadre contro il Leverona Scherma e il circolo lodetti di Pavia. Dai più piccoli e più grandi, un nutrito gruppo di atleti, Master, ha preso parte questo weekend alla quarta prova nazionale del circuito Master a Roma. A mettersi in luce Giorgio Desè e Vladimiro Spadaro, entrambi della categoria 1 di spada maschile, che hanno sfiorato la finale ad otto. Desè, dopo essere stato a lungo in vantaggio, ha ceduto per una sola stoccata 10-9 alla Baresa Anastasia, mentre Spadaro ha perso il match contro il Cagliaritano Tiana per 10-8. Intanto il Palamoac ha ospitato questa domenica il terzo allenamento Caff di Fioretto per la Sicilia, vedendo coinvolti oltre 30 fiorettisti siciliani. Ottima occasione di preparazione per gli underventi in vista della seconda prova, giovani di qualificazione e campionati italiani di categoria della prossima fine settimana sempre a Roma, dove le speranze modicane sono riposte su Massimo Arezzo e Bruno Salerno nel fioretto maschile, Simona Di Raimond ed Erika Piramide nel fioretto femminile e Manuel Puccia nella spada maschile. Bene, questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che potrete rivedere il nostro telegiornale sulla sito www.canale74.it. Io vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi lascio con i programmi di Canale 74. Arrivederci.